Massimiliano Pani, chi è e cosa fa il figlio di Mina? Nato a Milano nel 1963, Massimiliano Pani è sempre stato conosciuto da tutti proprio perché figlio della nota cantante Mina. È cresciuto quindi in una casa in cui la musica era sempre al primo posto e proprio per questo si è così appassionato alle note musicali. Fin da giovanissimo ha coltivato il sogno di fare il compositore, debuttando in questo campo molto presto, ossia all'età di 16 anni. A partire dal 1980 ha poi iniziato a collaborare attivamente con la madre Mina. Alcuni dei suoi successi sono scritti da lui, tutti o in parte, per esempio ha dato il suo contributo per brani come Il Vento o Sensazioni. Ha poi anche collaborato con artisti italiani ed internazionali, tra cui anche Renato Zero e Adriano Celentano, debuttando come produttore. Ha collaborato con Rai e Mediaset realizzando colonne sonore per le loro fiction ed anche dei jingle pubblicitari, soprattutto negli anni 90. Nel tempo ha avuto modo anche di dedicarsi alla televisione. In molti lo ricordano per essere stato membro della giuria nel programma Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, poi ha fatto anche il conduttore del programma a tema turistico Italia da stimare. Ad oggi continua a portare avanti il suo lavoro nel mondo della musica, principalmente come produttore, inseguendo il sogno di sempre. Per quanto riguarda la vita privata di Massimiliano Pani, lui stesso ha fatto trapelare qualcosa sull'argomento, ufficializzando diverse relazioni. In particolare di lui si conosce il matrimonio con Ulrich Efelrat, modella tedesca con la quale Pani si è sposato. Da questa unione è nato nel 1986 il suo primogenito, Axel. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto e successivamente i due hanno divorziato. Qualche tempo dopo il divorzio, il compositore ha avuto una relazione con la showgirl Milena Martelli, con cui poi si è sposato. Nel 2006 quindi è nato il suo secondo figlio Edoardo. Ad oggi Massimiliano e Milena stanno ancora insieme. Vivono tutti a Lugano in Svizzera e qualche volta sui social è possibile trovare le foto di questa famiglia. Entrambi però vogliono riservatezza e perciò non condividono molte immagini soprattutto del loro figlio. Intanto, Massimiliano ha anche un buon rapporto con la sorellastra Benedetta, altra figlia di Mina. Il suo primo figlio Axel è compositore, mentre Edoardo sogna di diventare sassofonista e sta studiando proprio per andare in questa direzione. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Mina e conoscevate tutti questi dettagli su suo figlio Massimiliano Pani? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!